Siamo in una situazione particolare per l'economia del nostro Paese. In questo momento deve prevalere l'interesse nazionale. L'interesse nazionale è fatto, al di là del merito del provvedimento che a noi non piace, dell'esigenza di un'accelerazione dei tempi dell'esame e dell'approvazione della manovra che noi abbiamo fortemente voluto come gruppi parlamentari di opposizione con una richiesta inoltrata ieri al Presidente del Senato. Abbiamo preso atto con soddisfazione che questa richiesta di anticipazione è stata accolta. In queste ore lavoreremo a delle proposte comuni con i colleghi del Terzo Polo, del Partito Democratico e di Italia dei Valori per dare il nostro contributo in un momento di particolare difficoltà del Paese, anteponendo all'interesse di parte, l'interesse generale che credo sia la cosa più importante e che debba anche servire a dare un po' di serietà e di decoro al lavoro che facciamo.